Non vuole rassegnarsi alla politica del compromesso divenuto ormai dilagante. Antonio Di Pietro lascia l'Italia dei Valori, partito che gli stesso fondò nel 1998 e nel quale evidentemente non si riconosce più. L'ex PM di Mani Pulite ha messo negli scatoloni tutti i suoi documenti, le sue cose che ancora erano nella sede romana del partito e se ne è tornato nella sua masseria di Montenero di Bisaccia, la sua osi nella quale in passato si rifugiava per ritemprarsi dallo stress che la sua attività di giudice prima e di politico poi gli procuravano. La sua casa dove ha deciso di trasferire tutti gli atti e documenti dei quasi 900 processi che lo hanno visto protagonista ai tempi di Mani Pulite. Una scelta dolorosa la sua anche perché in diverse occasioni ha sempre detto che l'Italia dei Valori è come un figlio ma ora è arrivato il momento di cambiare e cercare nuovi stimoli. Gli ha detto di sapere ciò che farò domani, non quello che ho fatto ieri. Ma Di Pietro non lascerà la politica, devo solo inventarmi una nuova vita, ha annunciato un nuovo modo di fare le cose e non torno a Montenero per chiudermi dentro. C'è da giurarci, tra qualche mese Antonio Di Pietro tornerà a far parlare di sé. Non è ancora arrivato per lui il momento di finire nell'oblio.